no non era un contenuto previsto ovviamente era in programmazione alle 17 e 30 il segna o non segna su questo canale youtube però ho deciso di congelarlo uscirà sicuramente domani ho bloccato la programmazione perché credo sia giusto no parlare di di questa ricostruzione scusatemi fatta dalla gazzetta dello sport che riguarda massimiliano allegri parole particolarmente forti non ho parlato in realtà anche di altre parole particolarmente forti pronunciate da un'altra figura e adesso ci arriviamo ovviamente ne approfitto per fare un'insalata generale ma prima vi saluto immediatamente cioè bella a tutti da me se vi fa piacere lasciate mi piace semplicemente per supportare i miei contenuti calcistici ovviamente più supportate i miei video come mi piace più vi porterò contenuti giornalieri se volete restare sempre aggiornati quando pubblico qualcosa iscrivetevi e attivate la campanella così vi arriverà sempre la notifica quando pubblico qualcosa ho due canali di calcio ma anche un canale youtube extra calcio sul canale extra calcio non vi dico quello che sta uscendo è già uscito il primo contenuto col buon fabio preparatevi nei prossimi giorni e settimane perché abbiamo registrato dei contenuti veramente assurdi se vi interessano contenuti extra calcio fatti da me e fabio seguiteci anche lì vi lascio comunque tutti i canali in infobox o compariranno qui durante il video allora da dove vogliamo partire perché qua in realtà sono volate parole forti le voglio ve le voglio leggere e poi ovviamente le voglio commentare alta tensione nel post partita di inter juventus di nuovo vi ricorderete quello che è successo all'andata a quadrado andanovic squalifica una cosa in altra insomma non è stato un bello spot in realtà vedere quelle immagini lo ripeterò e lo ribadirò sempre più che altro nei confronti dei dei più giovani no dei minorenni dei ragazzini che guardano questo sport e solitamente no cercano di imitare di emulare quelli che sono i loro campioni quindi insomma ne ho già parlato comunque a tempo debito in un contenuto dedicato la gazzetta dello sport segnala che il tecnico della juventus massimiliano allegri ha avuto un'accesa discussione con due dirigenti dell'inter dario bacin e beppe marotta marotta mi ha lasciato un po stupido in realtà perché insomma sono buoni i rapporti no erano perlomeno buoni i rapporti tra marotta e e allegri così mi risulta questa è la ricostruzione tutto è successo come spesso capita nel sottopassaggio non si sa che cosa abbia scatenato la furia del tecnico che evidentemente era molto più nervoso di quanto ha fatto vedere in tv in conferenza stampa confermo dove sembrava sicuramente più tranquillo no rientrando negli spogliatoi se l'è presa prima con il dirigente dell'inter bacin con cui c'erano stati degli screzi anche all'andata bacin era stato multato perché era sceso in campo a fine partita nei momenti concitati ovviamente della doppia espulsione di andanovic e lukaku sono volate parole grosse chi era nei paraggi ha raccontato che allegri ha inveito un po contro tutti se l'è presa perfino con beppe marotta con cui ricordiamolo ha lavorato alla juventus e con cui ha sempre avuto un rapporto splendido tra l'altro il dirigente prova a portarlo all'inter prima che max firmasse di nuovo con la juventus quindi mi ha lasciato un po spiazzato in realtà no il nervosismo di allegri fino ad arrivare alla squadra con offese anche piuttosto pesanti siete delle mh non l'ha detto de laurentis a sto giro è allegri che emula de laurentis ma tanto arrivate sesti così si sarebbe sfocato il tecnico che poi entrando nel suo spogliatoio avrebbe continuato con i suoi prima rimproverandoli con parole molto dure per la brutta prestazione e per la sconfitta poi tornando all'inter dobbiamo arrivare davanti a loro in campionato non dobbiamo mandarli in champions chissà se qualcuno degli ispettori federali ha sentito e se qualcosa di tutto questo finirà scusatemi sul referto arbitrale potrebbero esserci in quel caso delle conseguenze ovviamente non disciplinari per massimiliano a negli lo scopriremo solo tra qualche giorno di sicuro non c'è inter juventus che si rispetti senza liti e polemiche e anche stavolta qualcosa è successo sebbene lontano dalle tv io credo che ve lo dico in tutta onestà che allegri probabilmente sta rosicando io poi non so ovviamente quello che può essere successo se ci sono state delle provocazioni e controprovocazioni il clima della partita di andata insegna sicuramente però io resto sempre ragazzi di quella linea di quella lunghezza d'onda e credo che allenatori e calciatori anche cose fatte all'interno degli spoiatoi che vedono solamente loro e via dicendo credo che ci sia un limite no a tutto un limite che non vada mai no oltrepassato e credo che insomma rivolgersi in quel modo e poi dire ma tanto arrivate sesti ecco mi sa un po è una frase un po di frustrazione probabilmente per aver per aver perso ecco fosse vera quella che è stata la ricostruzione della gazzetta dello sport onestamente no per un allenatore come allegri che non mi è mai in realtà sembrato andando a memoria poi ho una memoria di quelle che ma non mi è mai sembrato così acceso no mi è sembrato sempre un allenatore abbastanza rigoroso abbastanza tranquillo poi per carità nella vita nella vita si cambia a me onestamente sono parole che non sono assolutamente piaciute è una mancanza di rispetto secondo me bisogna sempre accettare quella che è una sconfitta quella che è un'eliminazione no dalla dalla coppa italia a prescindere credo che ci siano dei momenti in cui sia necessario fare mia colpa e io sono stato il primo tra l'altro a ad additare responsabilità soprattutto ad allegri no perché ultimamente regà non ne vincono più una manco manco per sbaglio fatta questa premessa in realtà c'era già stato un precedente di massimiliano allegri a riprova del fatto che ultimamente la juventus non è tranquilla no dal punto di vista delle delle situazioni che accadono perché ve lo leggo un fattore emerso già negli scorsi match dalla semifinale di andata con l'inter fino allo scontro con il napoli domenica scorsa se con i partenopei allegri era stato sarcastico ammazza avete vinto uno scudetto aveva sillabato ma non offensivo come il suo vice landucci verso spalletti pelato dm ti mangio il cuore disse rivolto a spalletti ieri sera nella pancia di san siro l'allenatore ha perso nuovamente la calma io non so da che cosa dipenda in realtà questo questo nervosismo no di allegri è anche una mancanza di rispetto nei confronti del napoli dire ammazza avete vinto uno scudetto perché onestamente parlando vincere lo scudetto non sei riuscito a vincere lo scudetto perché devi denigrare con parole così potevano anche sembrare sarcastiche no però sono secondo me evitabili altra permessa che faccio quando io analizzo quello che dice allegri non lo dico perché sono contro la tifoseria della juventus quando io faccio un video in cui difendo teo hernandez perché è stato minacciato non faccio video pro milan o contro napoli lo avrei fatto anche all'opposto se fossero stati i tifosi del milan a farlo nei confronti dei tifosi del napoli la cosa che mi stupisce è che c'è gente che pensa che quando io faccio sti contenuti li faccio per andare contro la tifoseria juventus contro la tifoseria napoli non me ne frega niente da fare una cosa del genere io lo dico perché sono una persona onesta e le cose che non mi piacciono le dico dovreste aver voi un minimo di non me lo fate dire cosa di capire il motivo per cui lo faccio e manco che se domani ne esce fuori un'altra e riminacciano qualcun altro e il giorno dopo dovrei fare un canale youtube a parte ogni volta per parlare di sempre le stesse cose minacce insulti perché tanto io ogni tanto rifaccio il contenuto e rimetto lì un contenuto fresco per ricordare quello che è il mio parere ma non è il primo che facevo perché qualcuno ha insinuato che io anche quella cosa di teo hernandez che l'ho fatto proprio per andare contro i tifosi del napoli ma che cosa me ne può interessare a me onestamente parlando le parole dell'anducci se commentano da sole ragazzi quelle sono ancora peggio a mio modo di vedere proprio il peggio del peggio cose che io non avrei mai voluto leggere e ascoltare non le ho ascoltate ovviamente però posso immaginarle sono cose veramente brutte si esce da quello che è uno sport da quelli che sono determinati valori no se vince e se perde credo che bisogna sempre accettarlo ecco questo è il riassunto del contenuto ultimamente allegri non lo so lo vedo lo vedo un po fuori no da da quelli che sono i suoi canoni per come eravamo abituati a a vederlo non lo so da che cosa da che cosa dipende ma tanto inutile nervosismo che lancia secondo me segnali segnali sbagliati e poi alla fine il nervosismo all'interno dell'ambiente non porta sicuramente tranquillità porta ulteriormente nervosismo probabilmente le tante sconfitte attaccate nelle ultime di campionato semplicemente fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento come sempre alla prossima con un nuovo video ciao ragazzi